Nome? Beppe. Paolo Barchetti. Cognome? Mora. Età? 48 anni. 35 anni. Professione? Collaboratore pedagogico all'Uppada di Bolzano e docente. Operatore culturale, scrittore, conferenziere. Figli? Nessuno. Ho una bambina di 8 anni. Beppe e Paolo, cosa avete scritto insieme? Abbiamo scritto un libro di racconti, ci è nata questa idea, come abbiamo da un po' della verità, l'abbiamo intitolato Fiori di Roccia ed è dedicato ai bambini piccoli e ai bambini un po' più grandicelli, ai ragazzini. Ho scritto un bellissimo libro che si intitola Fiori di Roccia, un libro dedicato ai bambini. Perché il nostro ascoltatore dovrebbe leggere questo libro? Perché è un gran bel libro. Lo invito a leggere questo libro perché in realtà non è stato scritto solamente per i bambini, come spesso accade, ma i racconti devono anche essere letti dagli adulti per poi raccontarli ai ragazzini. Di che cosa parla questo libro? Parla dei sogni, dell'immaginazione di un mondo come quello dell'infanzia che è meraviglioso e fantastico. È ambientato qui nella zona alpina, quindi il contesto è quello che conosciamo. Abbiamo cercato di educare, ecco, o tornare a rieducare i bambini a quelle che sono le valutazioni nei confronti dell'ambiente e di elementi fondamentali, quali l'acqua, gli affetti, gli oggetti e tutto quello che ci sta dietro. Perché questo titolo? Fiori di Roccia perché i fiori di Roccia sono effettivamente i più belli, i più delicati, pur affondando le radici nella materia più ostile che è la roccia, quindi l'ambiente è molto difficile. Perché volevamo abbinare i fiori che esprimono dolcezza con la roccia che sono i grandi valori e quindi abbiamo fatto un libro che cercasse di esprimere questi due concetti. Da chi è nata l'idea di scrivere il libro? Con grandi discussioni mie e di Paolo insieme. Ma l'abbiamo avuta praticamente insieme. E in che occasione è nata l'idea di scrivere il libro? Eravamo in un bar. A dire che la realtà stavamo mangiando una pizza e la cosa è nata proprio in quella situazione. Quanto tempo ci avete impiegato a scriverlo? A scriverlo effettivamente sui 3-4 mesi, a pubblicarlo molto di più. Ci abbiamo messo circa 6 mesi. In che momento della giornata lo scriverate? Io l'ho scritto durante un periodo estivo, in vacanza, ero in montagna. In due settimane, dico la verità, il concetto. Per quanto mi riguarda di notte, non so Beppe, ma io ho scritto praticamente esclusivamente di notte. Il momento migliore. Quanti racconti hai scritto per questo libro? 5. E Paolo? 5. Ho scritto in realtà una decina di racconti che poi sono stati ridotti a 5. E Beppe? Non ho idea, penso che ne abbia scritto i 4 e poi sono diventati 5. Ha collaborato qualcun altro alla realizzazione del libro? Sì, l'amico Lino Signorato che ha realizzato delle bellissime illustrazioni. Oh sì, cito a questo proposito Lino Signorato, un caro amico che è stato colui che ha illustrato questo libro di racconti e lo ha fatto anche bene, devo dire. Faccio un saluto a Lino. Ciao Lino. Ciao Lino. Quando hai scritto il tuo primo libro? Ho scritto il mio primo libro a 22 anni. Era un libro di avventure giovanili di un adolescente particolare alla ricerca di qualche cosa, forse se stesso. Questo in realtà è il mio primo libro. Il secondo? Il secondo l'ho scritto a 25 anni e questo era un saggio che parlava della letteratura in generale. Il mio secondo libro è un libro dal titolo La Notte degli Spiriti, che ho scritto con Mario Manzana e Giorgio Miramoti ed è un saggio dedicato a quello che è l'antica sapienza europea e quindi celtica. E il terzo? Il terzo era un fumetto che era una sceneggiatura, in realtà, tratta da un'opera teatrale che avevo scritto precedentemente. Il terzo probabilmente avrà a che fare con gli alberi, ma non voglio anticipare di più. Il prossimo libro in uscita? Il prossimo libro in uscita. Il prossimo libro in uscita, ci stiamo meditando, spero di poterlo fare ancora con l'amico Paolo, anzi ne sono sicuro. Lo scriverete sempre insieme? Ma con Beppe sicuramente ho intenzione di fare ancora qualche cosa, anche se poi ovviamente ci saranno anche degli altri percorsi, degli altri studi. Beppe e Paolo, quando vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti sei anni fa nello stesso luogo di lavoro. Ci siamo conosciuti praticamente all'Upad. Cos'altro avete fatto insieme? Alcune conferenze, belle chiacchierate e anche qualche bevuta. Oh beh, abbiamo fatto anche delle... ci siamo divertiti anche insieme, abbiamo fatto delle belle scampagnate, delle belle gille. Che cosa non avete fatto insieme? Il prossimo libro. Non siamo ancora riusciti ad andare insieme in un rifugio di montagna, dove poter meditare e raccogliere le idee per un prossimo lavoro. Cosa vorreste fare insieme? Proprio questo. Un altro libro. Un aggettivo che descriva Beppe? Mirabolante. Volubile. Un aggettivo che descriva Paolo? Un po' meno mirabolante. Salutatevi. Ciao Paolo. Ciao Beppe. Ciao Beppe. Ciao Beppe. Ciao Beppe. Ciao Beppe. Ciao Beppe. Ciao Beppe.